La Regione Marche sta mettendo a punto in queste ore un progetto per il recupero delle prestazioni sanitarie, visite mediche ed esami diagnostici, che erano state interrotte durante l'emergenza Covid. Anche durante l'emergenza sanitaria abbiamo garantito le prestazioni di tipo U urgente e B breve. Per tutte le altre classi di priorità, a questo punto è importante che sia il medico arriva a lotare l'urgenza, per garantire la qualità stessa delle prestazioni, dichiara il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, che aggiunge In questi giorni stiamo riaprendo tutte le agende e i percorsi di presa in carico e per superare le criticità dovute all'accumulo delle richieste stiamo mettendo a punto un progetto che ci consentirà di allungare i tempi delle prestazioni, nelle ore serali e anche di sabato e domenica. Inoltre per accorciare i tempi di attesa al telefono per le prenotazioni è attiva l'app MyCoop Marche Un'opportunità importante, dichiara Ceriscioli, soprattutto dopo un periodo, la fase del lockdown, in cui molti cittadini hanno familiarizzato con le operazioni online. L'app è disponibile gratuitamente per Android e in Google Play, per iOS nell'app Store Apple e sul web all'indirizzo MyCoop Marche.it Si possono prenotare visite ed esami sanitari online da PC, tablet e smartphone. Si possono disdire anche gli appuntamenti. Le prestazioni prenotabili online sono quelle contenute nel Piano Nazionale Gestione e Liste di Attesa. Si può prenotare una prestazione alla volta e per accedere occorre dotarsi di credenziali forti e si deve avere la ricetta dematerializzata.